Ed eccoci alla seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi 14 di agosto siamo a mercoledì Quindi metà di questa seconda settimana intera dell'ottavo mese del 2024 in realtà poi questa è la terza settimana siamo già a metà mese ma siamo soprattutto alla vigilia della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo La festa dell'Assunta è cosiddetta anche ferragosto e quindi siamo nel cuore dell'estate siamo forse comunque ad un diciamo così a un crinale che stiamo salendo poi lo discenderemo perché dopo ferragosto chiaramente l'estate va un po' diciamo verso la sua naturale conclusione Però l'estate è sempre molto lunga anche dal punto di vista poi delle vacanze a scuola e anche della situazione meteorologica che spesso anche nei mesi successivi, quelli che dovrebbero essere i mesi autunnali Può ancora riservare delle grandi sorprese insomma ricordiamo che negli ultimi anni sicuramente settembre, ottobre e forse in parte anche novembre possono essere mesi buoni per continuare diciamo così la stagione turistica Ma parliamo di solennità religiosa domani grande festa in moltissime comunità parrocchiali molte sono dedicate o hanno come compatrona appunto Maria Assunta in cielo domani la cosiddetta Pasqua di Maria E allora andiamo a vedere in questa vigilia quali sono i santi ricordati e festeggiati oggi ce n'è uno particolarmente popolare molto molto amato San Massimiliano Maria Colbe il sacerdote eroico che si così si propose di essere sostituito ad un padre di famiglia ed essere ucciso nel lager di Auschwitz E altri santi ricordati e festeggiati oggi Beato Sante Brancosini da Rubino, Beata Elisabetta Renzi, Sante Eusebio di Roma, San Marcello di Apamea Vescovo e Martire, Sant'Arnoldo di Suasson, San Factna e ancora i Beati Martiri d'Oltranto, Sant'Ursicino, Beato Vincenzo Rubiols Castelò E poi ancora i Santi Domenico Ibanez e Francesco Soimeon e Beato Felice Justecava Sono tutti martiri e auguri naturalmente a coloro che oggi festeggiano uno di questi santi patroni o coloro che oggi ricordano e celebrano un anniversario O coloro che sono nati il 14 di agosto e quindi oggi fanno il loro compleanno auguri naturalmente Il 14 di agosto che siamo nel cuore dell'estate, nel cuore degli eventi estivi più amati, la torta dei fieschi eccetera Però purtroppo il 14 di agosto che noi da sei anni a questa parte ricordiamo anche per un tragico fatto, anzi da cinque anni a questa parte Il primo anniversario fu nel 2019, nel 2018 crollò il Ponte Morandi, oggi quindi grandi commemorazioni a Genova Qualche filo anche di polemica da parte dei familiari delle vittime, il secolo XIX oggi dedica una controcopertina a questo fatto Appunto chiedendo la memoria ma anche la giustizia al riscatto per queste 43 vittime che appunto hanno perso la vita nel crollo di una infrastruttura Che sembrava, insomma, faceva parte dell'infrastruttura autostradale Liguri e nonostante le tante manutenzioni durante gli anni Non aveva dato segni, segnali di un possibile crollo A sei anni però dal crollo, dice il secolo XIX questa mattina, la ferita morale non si è mai emarginata Anche se Genova ha saputo risollevarsi e andare avanti Proprio sotto il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio, oggi le celebrazioni che però inizieranno tra breve Con una santa messa in suffragio delle vittime preseduta da Monsignor Tasca Di questo naturalmente parleremo più avanti anche perché appunto ci sono tante pagine dedicate dal secolo XIX a questo fatto Ma anche sui giornali nazionali, sui telegiornali, giornali radio nazionali Quest'oggi viene ricordata questa ricorrenza Andiamo però a darvi invece le temperature, le temperature della notte che sono ancora una volta temperature piuttosto alte Notte tropicale anche quella appena trascorsa, lo diciamo tecnicamente La notte tropicale è la notte in cui le temperature minime non scendono sotto i 22 gradi Adesso anche qualcuno dice i 20 gradi ma insomma tra i 22 e i 20 gradi non vedo questa notte tropicale È tropicale un po' più in là e questa notte non è scesa assolutamente sotto i 22 gradi Anzi la minima, la media è stata di 24 gradi e mezzo la minima sul nostro territorio, sulla nostra costa Ma iniziamo dalle alture, iniziamo dai 1400 metri del rifugio Casermette del Penna Dove addirittura la temperatura è stata intorno minima, intorno ai 17 gradi, 16 gradi punto 8 16 gradi punto 3 a Rocca Daveto, 1255 metri Scendendo poi nella bassa parte della Val Daveto con l'inversione termica e la pressione al suolo Le temperature sono un po' più basse ma di pochi gradi, 12 gradi e 3 a Rezzo Aglio Basso 10 gradi e 8 a Cabane di Rezzo Aglio e a Parazzuolo Scendendo invece in Valle Sturla a 22 gradi e 2 a Belpiano In Val Graveglia a 24 gradi e 1 a Pontori E poi Dinè e poi Favole di Malvaro con 20 gradi punto 6, 18 gradi punto 9 Quindi qua non c'è stata notte tropicale a Pezzonasca di Moconesi Vicino a Pian dei Preti di Tribonia 23 gradi e 2 perché più si sale più le temperature aumentano E poi Villa Uneto infatti 24 gradi e 9, siamo a 410 metri sul livello del mare E sul livello del mare le temperature come abbiamo detto hanno avuto dei picchi anche intorno ai 26 gradi di minima Come Santa Margherita Ligure sul porto con 25 gradi punto 9, 24 gradi e 6 a Rapallo sul lungomare 25 gradi e 2 sul porto di Chiavari, qualche grado in meno nel retroterra di San Pier di Cane 24.1 Poi a Sestri Levante 22 gradi e 7, no scusate a Lavagna 22 gradi e 7 in località Berissi Sestri Levante purtroppo non è pervenuta questa mattina Moneglia 26 gradi e mezzo Temperature alte anche sul Golfo Paradiso 25 gradi e 2 a Ruta di Camogli 26 gradi e 8, quasi 27 la minima a Sori 27 e 4 a Genova Nervi quindi temperatura altissima Andiamo a Marassi 24 gradi e 6, a Genova Pra 26 gradi e 6 A Savona 24 gradi e 8, quindi un po' scesa Savona questa notte Anche se non di tantissimo Imperia 24 gradi e 7, più o meno stessa temperatura anche a Sanremo 24 gradi e 6 A 20 miglia 26 gradi e 4 Alla Spezia Estremo Levante 24 gradi e mezzo Vedremo poi lunedì perché diciamo che domani è festa Venerdì non ci sono i giornali in edicola quindi non andrà in onda la rassegna stampa E poi ci sarà il sabato come di consueto la rassegna stampa alle 8 e 30 Lunedì quindi quando riprenderemo l'edizione delle 7 e 30 della rassegna stampa Vedremo un po' come saranno cambiate le temperature minime Vedremo se davvero ci sarà il calo che stanno dicendo i meteorologi da qualche giorno a questa parte Cioè che nel fine settimana succederà qualcosa dal punto di vista diciamo non solo del meteo ma delle temperature Però non è il break dell'estate, non è che l'estate si spacca, che finisce l'estate, che andiamo verso l'autunno È una diminuzione di qualche grado ma non di tantissimi gradi della temperatura dovuta a un rimescolamento dell'aria Poi magari potrebbe essere che nella settimana successiva appunto dal 19 in poi ci possa essere anche un po' una rimonta Delle temperature perché siamo ancora in un periodo molto caldo Insomma ormai abbiamo capito che fino a metà di settembre le temperature rimangono piuttosto elevate anche al di sopra dei 30 gradi La giornata di oggi sarà una giornata nuovamente calda con temperature che possono tranquillamente arrivare nuovamente sui 34-35 gradi in alcune zone E porterà però ad un rinnovo dell'attività temporalesca nelle zone interne che negli ultimi 2-3 giorni si era un po' fermata Oggi forse dovrebbe tornare diciamo a farsi sentire Ma le zone interne stiamo parlando soprattutto di Alpi Liguri sull'estremo ponente e degli appennini più alti della nostra dorsale di Levante Quindi parliamo soprattutto della Val Daveto e della Val Trebbia dove ci possono essere questi temporali di calore molto brevi e comunque confinati e localizzati In realtà un peggioramento ci sarà già domani con l'aumento della nuvolosità soprattutto sul ponente quindi la parte occidentale Sul ponente, sul Levante ce ne accorgeremo molto di meno quindi domani comunque la giornata sarà ancora buona qua sul Tiguglio e sul Golfo Paradiso Un po' meno diciamo sull'Imperiese dove appunto ci sarà un'attività temporalesca soprattutto nelle zone interne che potrebbe interessare in alcune parti della giornata Anche la riviera Imperiese Però tutto sommato ad un lieve calo delle temperature di un paio di gradi, di un grado e mezzo Ci sarà un aumento della umidità dell'aria perché in questi giorni comunque di grande caldo Dobbiamo dire che durante le ore centrali della giornata l'umidità scende molto e quindi questo ci permette di avere caldo sì ma non una situazione terribile Come invece l'AFA che conosciamo molto bene qui in Liguria e che può portare dei malori quindi questo è molto importante C'è una certa ventilazione sul mare insomma comunque la giornata di oggi sarà ancora più o meno simile a quella dei giorni scorsi Quella di domani tutto sommato sul Levante non è che sarà molto diversa ma con la tendenza all'aumento dell'umidità dell'aria Quindi comunque anche a fronte di un calo molto minimo delle temperature non sentirà il nostro corpo un grande giovamento Questo lo dobbiamo subito dire Se poi arriverà invece qualcosa di più serio durante il fine settimana soprattutto domenica potrebbe transitare una perturbazione un po' più seria sul nostro settore Allora lì magari qualche calo di 3-4 gradi ci potrebbe essere della temperatura Questo è quello che ipotizzano in queste ultime ore i meteorologi Ma di questo parleremo meglio venerdì perché come sappiamo anche se non va in onda la rassegna stampa Venerdì ci vedremo durante i telegiornali delle 12.45 e delle 19.15 per il meteo del fine settimana Andiamo adesso invece a parlare di cronaca dal quotidiano avvenire Si parla subito della situazione in Medio Oriente Iran-Gaza la speranza di una doppia tregua Pressione su Netanyahu e Sinoir perché accettino Mentre Benjivir provoca irritando gli Stati Uniti E provoca perché Benjivir si è fatto una passeggiata Cosiddetta passeggiata sulla spianata ma non solo si è limitato a quello Ha anche pregato e sapete che per gli ebrei non è concesso Non è concesso farlo ed è un segno di sfida, di provocazione alla popolazione araba E quindi al mondo arabo Teheran rinuncerebbe all'azione ridursiva in cambio di un ruolo nelle trattative Ma sopra un altro anniversario perché tre anni fa cadeva il sogno, l'illusione Di aver dato una democrazia fragilissima all'Afghanistan Ricorderete quando l'America voleva esportare la democrazia Purtroppo episodi tristissimi dove assolutamente non si è esportato altro che armi Comunque tre anni fa la caduta di Kabul nelle mani dei Taliban E la fuga verso l'Italia per gli esudi una ripartenza da zero Accolti bene ma senza titoli la difficile integrazione degli afghani E soprattutto delle donne afghane E poi ancora sfregio razzista al morale su Egonu La pelle dipinta di rosa su un disegno che è stato fatto a Roma Per diciamo celebrare il simbolo anche un po' della nostra pallavolo nazionale Poi telefono azzurro aiutiamo le famiglie ai minori pure d'estate Chiaramente è un'associazione che tutela i minori E ancora curtatone in provincia di Mantua La divina commedia nei gessi dei madonnari Allora il secolo XIX con questa contro copertina Ma c'è anche la copertina vera e propria Militari italiani a Gaza per la pace Il ministro degli esteri quindi italiani Offre la disponibilità delle nostre forze armate A collaborare con l'ONU per aiutare il nuovo stato palestinese Teheran a Israele niente attacco se ci sarà la tregua Questa è una trattativa in corso Poi Putin altra minaccia addestrati a colpire con armi nucleari Crolli pagherà lo stato e naturalmente si parla del crollo In particolare del ponte Morandi Sostegno alle vittime a prescindere dalle responsabilità E parla anche il vice ministro delle infrastrutture Rixi Quella tragedia ha cambiato il paese Oggi cerimonia per il sesto anniversario della strage di ponte Morandi Inviato ai parlamentari il testo della legge chiesta dai parenti dei 43 morti Oggi alla certosa la commemorazione anche appunto vera e propria Anche con una messa in suffragio preseduta dal cardinale Arcivescovo Tasca Poi sul viadotto smart quasi 10 milioni di auto nell'ultimo anno Il ponte San Giorgio che è nato sulle ceneri Veramente del ponte Morandi È un'infrastruttura smart governata da 250 sensori robot e stabilizzatori Nell'ultimo anno si sono transitati circa 9 milioni 600 mila veicoli E poi naturalmente la Liguria si prepara anche ad una contrapposizione Centrodestra e centrosinistra perché ci sono le elezioni a fine ottobre Il candidato del centrosinistra in pectore del campo largo Andrea Orlando, lo spezzino ex ministro del lavoro Dice la sanità e il lavoro al centro della nostra campagna Orlando alla festa dell'unità di Rossiglione parla da candidato del centrosinistra La sanità e il lavoro al centro della campagna Quindi ormai diciamo che lui dà un po' per fatti i giochi All'interno del cosiddetto campo largo E poi invece per le inchieste che riguardano l'ex presidente della regione Totti Sappiamo chi la farà, le frasi di Totti sulla Diga alla Procura Europea Alla Procura Europea gli audo le intercettazioni tra Totti e Spinelli In una registrazione e le rassicurazioni sulla gara per la Diga Tra l'altro queste registrazioni, queste intercettazioni sono state anche rese pubbliche Sono state anche trasmesse da diversi fonti Diciamo su strumenti di comunicazione E quindi abbiamo sentito queste voci Balneari, Lega e Fratelli d'Italia ora si rassegnano Questa è naturalmente per la direttiva Bolkstein Mentre invece aria condizionata K.O. un traghetto da incubo Andiamo alla mondanità del nostro golfo A Portofino c'è la star internazionale, la pop star Madonna Madonna Portofino blitz e cena in piazzetta E' arrivata nel borgo per partecipare ad una festa in suo onore Per i suoi 66 anni organizzata da Dolce Gabbana E poi spray rosa sulla pelle l'oltraggio a Egonu Il morale di Roma che sembra una roba enorme Invece è piccolissima ma comunque è sempre un morale Spirito parla la ragazza savonese Palla volista che ha vinto l'oro a Parigi Insieme alle sue compagnie, insieme alla stessa Egonu L'oro di Parigi è un onore e non pesa Questa è la prima pagina del secolo Andiamo nelle pagine di cronaca locale Ritorniamo a Portofino ma non per questioni mondane Non per vedere le foto di Madonna che gira in piazzetta Ma per parlare di altre vicende Portofino e gli evasori Oltre 150 multe in due giorni Ai furbetti degli autobus Cioè chi sale sugli autobus senza fare il biglietto Tutte le sanzioni sulla linea 782 Che collega il paese, cioè Portofino A Santa Margherita Ligure Poi Rapallo L'autobus per il borgo ha trasportato Nel fine settimana, pensate, più di 4.000 passeggeri È la linea sicuramente più attiva della MT Ma forse a livello anche di competere Con quelle cittadine metropolitane genovesi Sono 66 le corse di andata E altrettanti di ritorno Sono controlli però capillari di MT Che appunto sono riusciti a fare in pochissimi giorni In due giorni 150 multe Quindi tantissime persone che salgono sull'autobus Senza fare il biglietto Qualcuno molto veramente anche un po' per ignoranza Nel senso che molti stranieri non capiscono I meccanismi di come si pagano i mezzi pubblici in Italia Magari pensano che sia ancora il controllore a bordo Comunque colui che faceva i biglietti Che una volta c'era, no? Su ogni autobus c'era l'autista e il controllore Colui che all'ingresso faceva anche i biglietti Ma parliamo chiaramente un po' di qualche anno fa Degli anni 70 Insomma ce lo ricordiamo noi più anzianotti Andiamo poi invece nell'entroterra Stop alla Cava di Masso Manca la valutazione di incidenza ambientale E quindi siamo nell'entroterra in Val Petronio Vediamo questa veduta panoramica Della Cava Acquafredda nei pressi di Masso Però ancora nel territorio di Castiglione e Chiavarese La sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale L'ampliamento del sito avrebbe richiesto una procedura aggiuntiva Quindi stop all'allargamento All'ampliamento di questa cava Parliamo adesso di tunnel Iniziamo con il tunnel di Rapallo Tunnel a Rapallo Rampe più basse Impatto ridotto L'infrastruttura Che appunto dovrà collegare la costa alla Fontana Buona Appunto partendo dal centro della Fontana Buona Raggiungerebbe appunto Rapallo Però sapete che c'è un comitato di cittadini Che si oppone soprattutto alla costruzione di questo svincolo All'uscita del tunnel Che sarebbe uno svincolo molto molto diciamo così Invasivo per la zona Che è una zona assolutamente verde E una zona che appunto non è interessata in questo momento Tranne che dall'autostrada Depositate al Ministero dell'Ambiente le modifiche progettuali Il comitato di integrazione richiesta dalla sovrintendenza Parliamo adesso però anche di un altro tunnel Quello di Velva Appunto eravamo prima in Val Petronio Il tunnel di Velva Cosiddetta Madonna della Guardia Che sappiamo negli ultimi anni Ha avuto degli interventi piuttosto importanti Di manutenzione straordinaria Tant'è vero che è stata chiusa anche per diverso tempo Questa infrastruttura Ora riaperta Però andiamo a vedere come procedono i lavori Perché i lavori non sono ancora terminati del tutto Ecco il servizio Si passa a tutte le ore E entrambe le direzioni I lavori di ristrutturazione Messe in sicurezza della Galleria Madonna della Guardia Non sono ancora terminati Ma come previsto da ANAS Sono stati sospesi dal 26 luglio al 1 settembre Una misura richiesta dai comuni della zona Per aiutare la circolazione delle automobili Tra Maissane e Castiglione e Chiavarese Visto il numero crescente di persone Che passano dalla costa alla Val di Vara Nel periodo estivo La strada alternativa è quella che passa dal santorio di Velva Un po' più lunga come i tempi E più scomoda per le curve e il dislivello La preoccupazione di chi vive e lavora tra Val Petroni e Val di Vara È che ci siano nuove ritardi e complicazioni nei lavori L'intervento di ANAS era iniziato a ottobre 2023 Con la chiusura completa della galleria La previsione era che rimanesse chiusa fino all'inizio febbraio Ma le operazioni erano in ritardo A causa di alcune criticità trovate dai tecnici durante i lavori Al 23 gennaio lo stato di avanzamento era solo al 15% Per cui la riapertura è stata posticipata al 24 aprile Per il breve periodo dei ponti primaverili Al 31 maggio la riqualificazione era completata al 65% Dopo un periodo di chiusura totale Da lunedì al venerdì tra giugno e luglio La sospensione è stiva ANAS dice che tutto sta procedendo secondo i piani È stato necessario fare degli approfondimenti tecnici E non ci sono all'attualità delle difficoltà nella prosecuzione dei lavori In questo momento visto l'esodo estivo e la richiesta dei sindaci Il cantiere è sospeso Nel senso che la galleria è appunto aperta al transito A doppio senso di circolazione Gli interventi riprenderanno il primo settembre Non è ancora chiaro con che impatto sulla viabilità E saranno avviate le interlocuzioni con i sindaci Con il territorio, con la regione Per appunto avere un cantiere sostenibile Secondo il crono programma La conclusione del cantiere sarà entro il 15 gennaio 2025 E allora andiamo avanti Sempre con la lettura del secolo XIX di oggi Carasco, anzi sì 695 mila euro per la riqualificazione della scuola Bacigalupo Il comune si è aggiudicato il bando statale Quasi 700 mila euro quindi sono in arrivo Per l'ammodernamento dell'istituto comprensivo Dedicato alla memoria di Luigi Bacigalupo Già sindaco di Carasco Il comune porta della Fontana Buona Appena ottenuto infatti un importante finanziamento Attraverso il bando pubblico per il piano nazionale Finalizzato alla riqualificazione dei piccoli comuni Che permetterà quindi alla città di realizzare Un significativo intervento di ammodernamento Di questo plesso così importante E avere i ragazzi della Val Fontana Buona Andiamo sempre dal secolo XIX ad altri argomenti E parliamo della missione Che la diocesi di Chiavari e di Genova Da molti anni porta avanti in terra cubana A Cuba come nell'oratorio di Ri L'impegno dei giovani per gli altri Il 19 agosto parte la missione nell'isola caraibica Di Flavia e Attilio Momi Assieme a Martina Olivi e Lorenzo Malaspina A Chiavari sempre più ragazzi impegnati Nei campi estivi diocesani Don Gastaldi dice Se responsabilizzati sono affidabili Appunto Don Basso dice A Cuba ci occuperemo dei bimbi e dei malati Che vivono isolati Quindi una missione appunto importante Questa che alcune persone Che arrivano appunto dalla nostra diocesi Prenderanno per la popolazione cubana E poi ancora Dedicarmi agli altri Fa bene anche a me Il segreto è la pazienza Parla Lorena Isaku Educatrice a Ribasso E ancora Tra i migranti al confine di 20.000 Esperienza coraggiosa I ragazzi delle parrocchie Della zona pastorale di San Piero di Canna Hanno fatto questo strano Particolare campo estivo In cui hanno anche Visitato le strutture di accoglienza Dei migranti Nella zona appunto di confine Di 20.000 Che negli ultimi anni Sappiamo benissimo Che è stata una zona Anche che ha visto diversi fatti Violenti Di rispengimento di emigranti Anche di morti Sui sentieri Che magari appunto Collegano Collegano senza passare direttamente Dalla frontiera Dopo questa pagina Del secolo XIX Andiamo anche A vedere invece Un'altra parte Diciamo Della medaglia estiva Abbiamo parlato del caldo Abbiamo parlato Delle meteo Ma insomma Questo è il periodo topico Anche per le manifestazioni Abbiamo detto che Questa sera Ci sarà la torta dei fieschi A Lavagna E tantissime altre manifestazioni In tutta la Liguria E come sappiamo La torta dei fieschi Ha varie Diciamo Giornate di preparazione Soprattutto Nel borgo Di San Appunto Di San Salvatore Di Cogorno E qua Ci sono state Le rievocazioni Della Dio Dufantin Falconieri Mangiafuoco e dame Addio Dufantin Nuovo successo Le rievocazioni storiche Che precedono appunto La torta dei fieschi Anche qua Vediamo L'annuncio Delle nozze Di Bianca O Pizzo Perché alcune manifestazioni Si svolgono a San Salvatore Altre si svolgono Appunto A Lavagna E poi questa sera La grande torta Ma Subito Il giorno dopo Ferragosto Il 16 di agosto Sarà anche la giornata Dedicata a San Rocco San Rocco Protettore Diciamo così Dei cani Soprattutto perché La sua immagine Sempre Diciamo così Accumunata da un cane Che fu Quello che lo salvò Diciamo tra virgolette Lo aiutò A salvarsi Dalla peste Perché sappiamo La storia di San Rocco È una storia molto Complicata Che però ha avuto a che fare Con le Pestilenze Italiane E il periodo Il punto in cui Molte città Erano Colpite da questa Pandemia Quella sì che era una pandemia Davvero molto seria Enrico Marco E altri angeli Dei cani Così abbiamo trovato Loro una casa Venerdì a San Rocco Di Camogli Il premio Bontà A chi cura Gli animali Riconoscimenti Alla Croce Gialla Di Genova E all'associazione Zampatesa Parla Enrico Fogli Premio Bontà Per il 2024 Ho trovato Lupen Che vagava Sulle strade Della Toscana Ascoltato il cuore Adesso io e Lupen Staremo sempre Insieme E appunto Ci sono storie Di uomini Che salvano i cani Ma ci sono storie Anche di cani Che danno una grossa Mano all'uomo A volte lo salvano Come i cani Appunto da salvataggio Quelli antivalanghe Eccetera Quindi è chiaro Che a San Rocco Proprio nella giornata Del 16 agosto Si festeggiano E si ricordano Episodi Importanti Poi ci saranno Le varie premiazioni Ritornando al secolo XIX Andiamo a vedere invece Nella pagina del Levante Parlando sempre di animali Però animali Che possono diventare Molto pericolosi Loro malgrado Pericolosi per noi Ma pericolosi anche Per loro stessi Perché ignari Attraversano le strade Che vengono percorse Da moto Camion Macchine Pullman Quindi possono rimanere Uccisi Ma possono provocare Anche degli incidenti Stradali E purtroppo Succede sempre più Frequentemente Incidenti provocati Dagli animali In riviera Uno Pensate Uno Ogni due giorni Poi per fortuna Alcuni incidenti Non hanno delle ripercussioni Gravi Né per l'animale Né per l'automobilista Però insomma Sono sempre incidenti Che capitano Che danno Magari dei danni Gli esperti del nucleo Recupero fauna Dicono In estate Aumentano gli episodi Ecco le strade Più pericolose Che sono quelle Dell'entroterra Che conosciamo bene Ma sono anche quelle In riva Al mare Perché comunque Per esempio I cinghiali Sappiamo bene Che sono sempre più Attirati Dai centri urbani Anche proprio Dalle località Rivierasche E attraversano Anche l'Aurelia Anche le strade Proprio di collegamento Tra la riviera E le colline Parla Donato Paganini Responsabile Del nucleo Recupera fauna Selvatica Le strade Interessate Dal problema Hanno un fattore In comune Sono vicine Ai corsi d'acqua Dove gli animali Si abbeverano E poi Parlavamo di peste Prima Parliamo di peste Suina In crescita Pronta Una nuova azione Di depopolamento Contagia Ne Uscio E Varese Ligure Quindi proseguono Purtroppo I ritrovamenti Carcasse Di animali Di cinghiali Che appunto Hanno Il segno Di questa Pandemia Di peste Suina Che al momento Chiaramente Non è interessato Altro che Cinghiali Però si teme Chiaramente Che ci possa essere Una diffusione Anche Sugli allevamenti Di maiali A questo punto Invece Ci fermiamo un attimo Per vedere Tutti gli altri appuntamenti Oltre alla torta dei fieschi Che ci saranno oggi Nel nostro territorio C'è la scheda Della nostra rubrica E' appunto Importante Dell'agenda Quindi andiamo a vedere insieme Gli eventi di oggi Gli appuntamenti Per mercoledì 14 agosto Al forte di Santa Tecla Genova C'è l'inaugurazione Della mostra Legni incisi Per Montale A cura di Gianfranco Schialvino E Gianni Verna 80 axelografie Ispirate dai versi Del poeta Ligure Si può visitare Dalle 17.30 Alle 23.30 Festa dell'assunta Recco Alle 18.00 la messa Seguita dal concerto Della Scuola di Musica Moderna Di Barbara Ferrarello E poi da quella Di DJ Veneziano Alle grotte di Borgio Verezzi C'è l'anteprima nazionale Dello spettacolo Dreams Di Gian Battista Basile Con regia Di Carlo Senesi Alle 20.30 Alle 21.00 Festa dell'assunta Dalle grezze Di Santo Stefano Daveto Alle 20.30 La messa prevestiva Nella chiesa locale A seguire il concerto Del coro La Contrada Diretto dal maestro Graziano Tassi Al circolo di Villanoce A Rezzoaglio C'è la 14.00 edizione Del torneo Di calcio balilla Iscrizioni Fino alle ore 20 Del 14 agosto L'inizio È alle ore 21 A Vico Soprano di Rezzoaglio C'è la festa Della birra Dalle 21.00 Musica Con Spunciaporchi E Luca Parpagliola Nel piazzale Della chiesa di Carlo Concerto del trio Nordio Shortino di Lon Inizio Ore 21.00 L'evento Fa parte Del festival Paganiniano All'oratorio De Neri Di Rapallo Va in scena Il concerto Dei Cello Organic Renata E Raduzlofumarzec Ispettivamente Al violoncello E all'organo Inizio Ore 21.15 L'appuntamento È inserito Nel festival Organistico Internazionale Nell'arena Della colmatina Chiava Dice una serata Di ballo liscio Con l'orchestra Roberto Morselli Inizio Ore 21.15 A largo Marte Di Partigiani Di Deva Marina C'è una festa Con DJ Set Per festeggiare La vigilia Di Ferragosto A partire Dalle 21.30 Alle 23.30 Poi È previsto Uno spettacolo Piedotecnico Allora Abbiamo parlato Diffusamente Del meteo In apertura Di trasmissione Però adesso Andiamo a Riepilogare A riassumere Velocemente Quello che succederà Allora Oggi Ritorna Una certa Attività Cumuliforme Nell'entroterra Che può dare luogo Come sappiamo A temporali Di calore Cosiddetti Quelli che si sviluppano Nella prima parte Il pomeriggio Hanno Un'azione Molto localizzata E poi Entro la sera Insomma Si dissolvono Completamente Lasciando spazio A cielo Più sereno Quindi Questa attività Con uniforme Dove Accadrà Dove avverrà Verrà soprattutto Nelle zone Di impatto Con le montagne Più alte Quindi le Alpi Liguri Sicuramente Sulla parte Apponente E sulla parte Levante Nel comparto Aveto Sturra Non saranno Appunto Fenomeni Molto diffusi Quindi saranno Molto molto Localizzati E anche Di breve Durata Per il resto Invece Sulla Liguria Ancora condizioni Di cielo sereno Poco nuvoloso E quindi Di tempo Soleggiato E caldo Con venti Deboli Dei quadranti Settentrionali E rotazione A brezza Nel pomeriggio Quindi Dei quadranti Veridionali Mare calmo Poco mosso Temperature Che in serata Nell'entroterra Possono essere In lieve diminuzione Ma le massime Ancora oggi Sulla costa Potranno raggiungere I 35 Gradi E in qualche caso Anche superarli Quindi temperature Ancora molto Molto Elevati Andiamo a domani Il 15 di agosto La Limet Prevede Una giornata Caratterizzata Da Peggioramento Delle condizioni Meteo Parziale Soprattutto Sulla parte Occidente Quindi la parte Appunto Ponente Alpi Liguri E zona Imperiese Mentre Altrove Ci saranno Soltanto Cieli velati O parzialmente Nuvoloso Fenomeni Pomeridiani Sulle creste Dell'Appennino Venti deboli Dei quadranti Meridionali Con rinforze Sul golfo Mare Poco mosso Localmente mosso A largo Dell'Imperiese Temperature Il lieve calo Le massime E le minime Però Con un aumento Dei tassi Uvidità Questo calo Non è che lo sentiremo Proprio tantissimo Quindi non è che domani Possiamo dire Che farà fresco Assolutamente no E veniamo a venerdì 16 di agosto Che intanto è un po' più in là Quindi 48 ore Vediamo se Riusciamo a dare Delle condizioni Un pochino più Precise Appunto Il 16 agosto È prevista Un aumento Della copertura Nuvolosa Un po' su tutta La Liguria E non si possono escludere Rovesci isolati Soprattutto sugli estremi Della regione Quindi estremo levante Estremo ponente Comunque Le temperature Saranno in leggera Diminuzione Anche se Permarrà ancora Il disagio Fisiologico Per il caldo E comunque Nel corso della giornata Ci potranno ancora Essere delle schiarite Anche spazio Per il sole Cosa succederà Sabato e domenica E sabato e domenica Dovrebbe impattare Sul territorio nazionale Soprattutto sul nord-ovest Una perturbazione Un pochino più attiva Rispetto a questa Debole circolazione Instabile Quindi potrebbero esserci Appunto Dei fenomeni Un pochino più marcati Soprattutto sull'arco alpino Soprattutto sulle prealpi Ma anche un po' Sulla Liguria Quindi Venerdì Appunto Durante i telegiornali Vi diamo appuntamento Per darvi proprio La situazione meteorologica precisa Domani Non saremo in onda Perché è ferragosto La sorenità Della beata Vergine Assunta Dopodomani È il 16 Non ci sono i quotidiani Indicola Quindi la rassegna stampa Non andrà in onda L'appuntamento Con la rassegna stampa Sarà alle 8.30 di sabato Per le due edizioni Delle 7.30 E 8.10 Ci rivediamo Lunedì mattina Io ringrazio Luigi Cano Che ha curato la parte tecnica Tutti voi che ci avete seguito E da parte di Marco Revello Un'ottima giornata Naturalmente L'augurio di buona giornata E di un buon Ferragosto Grazie a tutti